Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, vi ricordo che per supportarmi in maniera totalmente gratuita codice creatore XEmanuele97 Detto ciò andiamo a vedere quello che è uscito oggi ragazzi, Tosis Light come Emote 500 VBAC serie di icone del capitolo 2 stagione 2 Poi ragazzi andiamo avanti c'è il Cavaliere Rosso, è tornato il Cavaliere Rosso prepotentissimo 2000 VBAC leggendario della stagione 1 Poi ragazzi andiamo avanti c'è Lascia Scarlato 800 VBAC per questo piccone della stagione 4 Poi è tornato Venturion prepotentissimo 1500 VBAC, epico della stagione 4, vediamolo nei suoi due stili a Venturion Poi ragazzi andiamo avanti e abbiamo Venturia, anche lei 1500 VBAC, epica della stagione 4, ovviamente anche lei in due stili Poi ragazzi andiamo avanti abbiamo Aerodinamico, stagione 4, 800 VBAC, raro, mi racconto un bel like ozzo ragazzi Poi come Deltaplano abbiamo Trionfo, non comune della stagione 4 Poi ragazzi andiamo avanti e c'è Marianne, 1500 VBAC, epico del capitolo 2, stagione 3, reagisce alle eliminazioni e al bottino Poi come Motto Epica abbiamo Rianimato, 800 VBAC della stagione 3 Poi ragazzi andiamo avanti e abbiamo il Pattugliatore del Par, Galliolfi del Green, capitolo 2, stagione 3, 800 VBAC, non comune Poi abbiamo Gancho Slice, 500 VBAC, non comune del capitolo 2, stagione 3 Mi raccomando un bel like ozzo ragazzi Come Motto abbiamo Jamboree, stagione 7, 500 VBAC, raro Poi ragazzi andiamo avanti e abbiamo Sasso Carta Forbici, come Motto, 200 VBAC, non comune della stagione 3 Poi ragazzi andiamo avanti e abbiamo ancora il bundle di TheGrefg, ancora il bundle Guerra del Futuro Anche questo qua shoppabile singolarmente e il pacchetto delle leggende succose Vi ricordo ragazzi per supportarmi in maniera totalmente gratuita Codice Creatore X Emanuele97 E noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi